Torniamo da Versa con un punto che comunque non ci serve alla classifica per andare avanti. Purtroppo siamo partiti un po' a diesel, con i primi due set che potevamo fare qualcosa in più e verso la fine anche magari limare qualche incertezza che si poteva fare. Ancora il campionato è lungo, non è finito ancora il giorno di andata, abbiamo tempo per allenarci e migliorare. Grazie.